Dimissioni in bianco, una pratica odiosa quanto illegale, che indebolisce i diritti dei lavoratori dipendenti e soprattutto delle donne. I datori di lavoro che fanno ricorso a questo strumento possono licenziare simulando le dimissioni volontarie in caso di infortuni gravi, malattia e naturalmente in occasione di una gravidanza. I sindacati stimano che nel corso degli anni circa 800.000 madri hanno perduto il lavoro con questo espediente. Si tratta di un abuso che viola lo statuto dei lavoratori, ma che purtroppo si avvera con una certa frequenza se nel 2007 il governo Prodi giunse a promuovere una legge per arginare il fenomeno. Secondo questa legge le dimissioni volontarie dovevano essere obbligatoriamente redatte su appositi moduli con data certa, rilasciati dalle direzioni provinciali del lavoro. Nel giugno 2008 la legge fu però cancellata da un decreto legge del governo Berlusconi. Un vasto movimento nazionale chiede oggi alla ministra Elsa Fornero il ripristino della legge 188 per tutelare i lavoratori dal ricatto delle dimissioni in bianco. Il comune di Napoli attraverso l'assessora alle pari opportunità Pina Tommasielli aderisce alla richiesta sottolineando che si tratta di una difesa di tutti i lavoratori ma in particolar modo delle donne più di tutti esposte alla minaccia della precarietà. In Italia c'è bisogno di fare delle leggi per affermare un diritto conclamato. Ora il governo Berlusconi l'ha tolse di mezzo questa norma. Le donne la rivolgono perché hanno diritto di lavorare anche se sono madri. Sta succedendo che per esempio l'OMSA vuole andare in paesi dove le donne sono meno tutelate per poter guadagnare di più sulle calze e allora che fa? Paga di meno l'operaia ma io non è che pago di meno la calza. Le primipare sono donne che hanno tra i 35 e i 45 anni. Abbandonano il posto di lavoro perché le si fa capire che non ci sarebbe possibilità di conciliare la maternità con l'attività lavorativa. Il settore del commercio sicuramente il fenomeno è molto acuto perché lì è molto più difficile intercettare i lavoratori. È chiaro che laddove i lavoratori sono molto meno frammentati e c'è una rappresentanza sindacale il fenomeno è molto più difficile da verificarsi. Oggi in tutte le prefetture d'Italia è stata consegnata la stessa lettera per una battaglia di dignità che le donne stanno combattendo. Questa battaglia riguarda non solo le donne ma riguarda anche gli uomini perché la lettera di dimissione in bianco viene fatta firmare anche a tanti precari che nel momento poi di una malattia, di un infortunio viene poi presentata. Le dimissioni in bianco di per sé ovviamente sono sempre uno strumento illegale e potrebbero in ambito processuale essere sempre impugnate naturalmente con delle difficoltà di onere per quanto riguarda l'onere della prova e per quanto riguarda la difficoltà di far valere in un giudizio le legittimità di queste dimissioni in bianco. C'era la legge che andava come dire impediva questa pratica ignobile delle dimissioni in bianco e bastato che uno dei primi provvedimenti del governo Berlusconi attuato dal ministro Sacconi è stato proprio quello di eliminare la norma che praticamente impediva le dimissioni in bianco. L'assessorato pari opportunità non solo aderisce ma si sente investita della necessità e dell'importanza di amplificarla questa protesta, di estenderla alle altre istituzioni, agli altri comuni perché è evidente questa è l'aggiunta e questa è l'amministrazione che politicamente sta dando un segnale forte nella tutela dei diritti. Abbiamo sentito le parole della ministra Fornero e io approfitto dell'occasione per invitarla qui per l'8 marzo perché è con lei che vogliamo un confronto chiaro, aperto e a lei che l'istituzione, le donne dei sindacati, le donne delle associazioni, le donne tutte di questa città vogliono dire che i diritti non si toccano.